Salve a tutti, Arduino Schenato, yearforex.com, tradingfinanziarioprofessionale.com La Coaching FTV sta avendo un forte successo, la Coaching FTV è quel corso one to one dedicato esclusivamente alla strategia proprietaria non discrezionale, follow the winner, ecco perché è FTV. A svolgere la Coaching sono io, Arduino Schenato, oppure il mio collaboratore trader Marco Pavanati. C'è la possibilità attraverso la pagina di vedere la mia disponibilità e quella di Marco, vi spiegheremo durante la strategia, scusate durante il corso, la strategia attraverso tutti i principi che la regolano. Sì, perché la strategia FTV ha delle regole ben definite che devono essere ovviamente seguite alla lettera. Alla fine della Coaching vi verrà inoltrato dei file, una mail con svariati file, dove all'interno troverete screenshot di esempio, troverete la modifica del Fibonacci, troverete le regole operative che descrivono la strategia ed è quello che poi parleremo durante la Coaching. Quindi direi che se volete poi avere maggiori info, basta solo che scriviate sulla mail di riferimento del sito, oppure se avete già deciso, non serve altro che acquistare la Coaching dal sito e scegliate se farla con il sottoscritto oppure se farla con Marco. Bene, direi quindi che vi lascio, vi saluto e vi auguro a tutti un buon Trading Simple con la FTV. Grazie. Grazie.